E' una grande emozione ritrovare un centro-destra unito Come nel 1998, quando vinceremo Vorrei rassicurare i profeti di sventura Che mi sento assolutamente bene se mai non vado in bicicletta Molti mi chiedono cosa ne faremo delle piste ciclabili Le ricicleremo! A noi! A Necamina! Palazzo Turrisi lo dedicamo agli immigrati C'era anche una biblioteca interculturale Simulimeghiu, simulimeghiu Avevamo il mercato dell'etnie Per valorizzare le altre culture Manculicani! Simulimeghiu, simulimeghiu A Necamina! Si! È una grande emozione ritrovare un centrodestra unito Come nel 1998, quando vincemmo Vorrei rassicurare ai profeti di sventura che mi sento assolutamente bene Se mai non vado in bicicletta Molti mi chiedono cosa ne faremo delle piste ciclabili Le ricicleremo A noi A ne camminare Alazzo Turrisi lo dedicammo agli immigrati C'era anche una biblioteca interculturale Simuli Meghiu, Simuli Meghiu Avevamo il mercato delle cnie per valorizzare le altre culture Simuli Meghiu, Simuli Meghiu A ne camminare Inscreva- though